Da qualche giorno anche in Valtiberina, oltre all'estate astronomica, è arrivata anche l'estate vera, quella fatta di sole e di caldo. E questo chiaramente per l'impianto delle piscine Pincardini è un requisito fondamentale. E siamo appunto con Marco Pincardini, giovane titolare dell'impianto, con il quale parliamo dell'estate 2016. Insomma, un'estate che è partita con più di un'apprezzione, ma finalmente il bel tempo è arrivato. Sì, un'estate che quest'anno si è fatta attendere da tutti i frequentatori delle piscine e gli amanti dell'estate in generale, che però fortunatamente alla fine è arrivata. È arrivata con un bel sole piacevole caldo che ci sta accompagnando durante queste giornate estive di fine giugno. Ecco, per esempio, l'ultimo weekend di giugno è stato molto caldo e le piscine puntualmente si sono riempite. Noi abbiamo la solita affluenza numerosa, diciamo, che durante le giornate di bel sole ci accompagnano qui in piscina da noi. Noi siamo contenti. Quando il sole c'è, le persone non tardano ad arrivare. Ecco, lei ha parlato di persone, io parlerei di bambini, di genitori, di famiglie. Ecco, questa tradizione oramai, diciamo, cinquantenale della piscina Pincardini si perpetua anche adesso. Cioè, è la piscina delle famiglie e della gente, non soltanto di Sansepolcro, ma della vallata. Sì, appunto per questo, infatti, questa è una realtà familiare gestita appunto da famiglie che è presente a Sansepolcro da tanto tempo e cresciuta con amore negli anni. È così tuttora e da più di cinquant'anni. E le persone che vengono qui in piscina da noi sono principalmente famiglie che cercano la spensieratezza di una giornata e anche non lontano da casa. Quindi noi cerchiamo sempre di dare il massimo impegno per questa struttura, per Sansepolcro, perché vorrei precisare, è molto importante un punto di riferimento come la piscina in estate per Sansepolcro. E le persone sono veramente contente e noi cerchiamo di fare il possibile per rendere possibile tutto questo appunto. Nel corso della settimana, tutte le mattine, va avanti anche un'altra tradizione storica delle piscine, quella dei corsi. I famosissimi corsi di nuoto per bambini di tutta l'età e persone a grandi. Diciamo che proprio generazioni e generazioni hanno imparato a nuotare in piscina qui da noi e questo ci rende un po' fieri, ecco, diciamo. E andando avanti negli anni si sono sempre susseguiti, in più abbiamo aggiunto anche dall'anno scorso i corsi di acquagym per integrare un po' il servizio sempre per venire incontro alle esigenze della nostra clientela. Allora, riassumendo, chi viene alle piscine più in cardini cosa trova? Trova una vasca olimpica, una vasca per i tuffi e poi? Una piattaforma sì per i tuffi, in più trova i famosi acquascivoli che richiamano persone di tutte le età e in più trova la vaschina per i bambini perché appunto teniamo sempre ai nostri piccoli, essendo anche io padre di famiglia. E quest'anno ritrovi anche il dancing? E quest'anno abbiamo ritrovato appunto anche il dancing per tutta l'età proprio. Noi partiamo dai più piccoli fino ad arrivare ai più grandi e tutti i mercoledì sera appunto ci sono delle serate danzanti per appunto con il liscio e per gli anziani, persone più grandi che magari si allietano nel doposcena. Certo, regalate un momento di divertimento anche a loro. Sono previsti eventi nel corso dell'estate oltre magari ai bagni in notturna che quelli diciamo saranno figli della temperatura e delle giornate di sole e di caldo? Sì esatto, appunto seguendo l'ondata di caldo e questa scia di calore abbiamo deciso che inizieremo i bagni in notturna dagli ore 21 e sperando appunto nell'affluenza dei nostri clienti anche in versione notturna. E sì, poi comunque sia andremo avanti tutta l'estate con vari eventi di varie tipologie, varie serate tra cui una il 16 di luglio, serate danzanti appunto per ritirare anche un po' su il nome della Valtiberina durante le serate estive danzanti. Benissimo, allora noi ringraziamo Marco Pincardini. Quale miglior augurio di dire buon'estate anche alle piscine Pincardini? Buon'estate a tutti voi, vi aspettiamo numerosi qui alle piscine Pincardini.